Punta bianca come la fontana di Trevi che Totò, in un celeberrimo film delle 62, avrebbe tentato di vendere ad un credulone. I carabinieri della compagnia di Canicattì, coordinati dal procuratore capo di Agrigento Luigi Patronaggio e dal sostituto procuratore Giulia Sbocchia, hanno notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari a tre indaganti di associazione a delinquere finalizzata alla truffa, allorché avrebbero perpetrato tra il febbraio 2020 e l'agosto 2021 una maxitruffa a danno di circa 160 persone tra le province di Agrigento, Caltanissetta e Palermo, raggirrate per ottenere un posto di lavoro nell'ambito della costruzione di una fantomatica base militare della difesa, dietro il pagamento di una tangente. Più nel dettaglio la millantata quanto falsa costruzione militare sarebbe sorta a sud-est di Agrigento, a punta bianca, prossima riserva naturale. L'ideatore e promotore della truffa sarebbe LM, sono le iniziali del nome di Favara, che incontrando i truffati si sarebbe presentato come Cardinale Vescovo di Monreale, una personalità di rilievo politico e sociale tale da poter garantire assunzioni. Insieme al favarese LM sono indagati due fratelli di Canicatì. Le indagini sono state avviate a seguito della denuncia di alcune vittime dell'inganno che si sono rivolte ai carabinieri. Le successive intercettazioni hanno svelato quanto di criminale sarebbe stato architettato. I tre, per vendere la fontana di Trevi, avrebbero millantato e vantato il patrocinio di vertici dello Stato e poi avrebbero esibito progetti edilizi, contratti, documenti e timbri. E poi mappe della base, plichi sigillati in Ceralacca, contratti e tesserini. Tutto falso e sequestrato. I truffati avrebbero pagato da 2.500 euro in essù per scavalcare l'esame di assunzione. E non solo. Alcuni dei truffati sarebbero stati a loro volta reclutati per ricercare altri lavoratori da impiegare alla base militare. E non solo. Per rendere credibile l'incredibile, i truffatori avrebbero indicato come destinatario dei soldi il generale di corpo d'armata Luciano Portolano, che è di aggrigento. Ovviamente ignaro. Da menzionare il caso di una donna, una imprenditrice, che ha pagato 5.000 euro per gestire un ristorante dentro la base. Lei poi ha sostenuto altri costi e non roba da poco per formare una nuova società e per adeguare il proprio laboratorio artigianale. Lei è costato così tanto che lei è stata costretta a cessare la propria attività. Alcuni truffati, per pagare ed essere assunti, hanno utilizzato finanche il reddito di cittadinanza. Le indagini proseguono per identificare altri eventuali complici o vittime della truffa.